Adesso proviamo a farlo con tre cifre. Allora, il 4 nel 9 ci sta, sì, ci sta due volte. Prendo il 9 e scrivo 2 nel risultato. 2 per 4, 8. Al 9, 1. Abbasso il 7. Il 4 nel 17 ci sta, sì, ci sta quattro volte. 4 per 4, 16. Al 17, 1. Abbasso il 2. Il 4 nel 12 ci sta, sì, ci sta tre volte. 3 per 4, 12. Al 12, 0. E il risultato è 243.